Buonasera a tutti ragazzi e ragazzi, siamo in live, tornati su Fortnite insieme a mio fratellone Ragazzi siamo a livello 100, Tony Stark ci dice qualcosa, ci sta dicendo che manca pochissimo per sbloccare appunto tutto Ragazzi oggi completeremo pure il balletto di Iron Giusto, allora ragazzi una cosa che dobbiamo fare, adesso ci salteremo una coppia e dobbiamo visitare 5 luoghi Io lo dico già, ragazzi però c'è da dire che è tanta roba Eh ma lo sai che io già so dove sta il balletto di Iron Sì lo so pure io Perché se ti vuoi un'armatura tu te la puoi rubare Dai ragazzi mi raccomando giovedì usciranno anche le nuove emissioni Quindi se non riusciamo per giovedì a completare Iron Man Anzi per oggi a completare tutto Iron Man lo completeremo sicuramente giovedì Sì però per favore dopo che è completato tutto il tablo non te lo dimentico Giusto è giusto ragazzi, mio fratello dice cose molto giute Ragazzi io vi aspetto anche oggi pomeriggio in live verso le 4 per fare FIFA e PES Ovvero FIFA carriera allenatore con Milan e PES carriera allenatore con la Roma Io non so, guarda i miei piccoli aspetta Come si sente bene i piccoli? Perché, scusa non mi serve? Perché? Se oggi pomeriggio devo scendere con un eventuale qualche problema Minu guarda le piccoli tengo Dopo lo posso io eh? Io ho sbloccato e mi piacciono Guarda Lino Minu Ragazzi ovviamente oggi si proverà a fare una vittoria reale come abbiamo fatto appunto ieri Ragazzi dal passo 5 a meno me ne comprate Non lo so, per il modello E hanno tutte le due come le due Vabbè ma io so, a me è dalla play Ma che c'entra? Ragazzi guardate i ricordi Già partiamo così, cattiva Allora ragazzi io proverei a partire a Siepi Poi farei Borgo, Torità, Foresta e Pantano Farei tutto questo lato perché giustamente No che no No dovessi fare Siepi, Pantano perché Siepi, Pantano, Foresta e Brughiere Dai ragazzi andiamo Brughiere Speriamo bene Se ci dirigiamo direttamente a Foresta Poi non possiamo andare a Pantano Pantano, Foresta, Siepi, Autorità e Sabbie Come missione mi potrei basare solo sui punti esperienza ragazzi Perché poi oltre quello della settimana 7 di facile non c'è più niente Infatti se voi vedete Devo fare salve sui dati e brughiere Eliminazione a Brughiere e Brughiere Consumo oggetti da raccogliere a cosa? Però io ti devo dire un attimo una cosa Hai fatto bene a scendere la falsa missione Perché questa è una delle più complicate Sono morto, sono morto Aia Come fai ad essere Giornale? Rompano Sta un'arma Diri un'arma Si ma mi spieghi come fai ad essere Sta uno qua con la R Non mi romperà E io dico non mi romperà Come parlare con i venuti? Ma non rompermi Vai E dai Aspetta E allora se ti fai tutto tu Se me ne vado Tutto io Non ho neanche le armi Io ho davo un piccone Eh ma scusami Che vuoi da me? Eh bastono Che vuoi da me? Non uscire da me Perché devi venire a lottare in casa mia? Vai a lottare in un'altra casa Sì ma sto chiamando Sì ma sto chiamando Non ho idea Ciro Non ho deciso di prendere la R Ha 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 E spassa Non è spassa Sì sì Maradona Ciro Oh no c'è che c'è una r qui? No no no. Ho detto che prendo l'augo. C'è l'augo? Ma quanta roba hai? Il quartiere è scivolo. Poi sono ottoni. Io dovevo perdere un po' di vita. Sì, infatti. Però mi faccio doppio panco. Poi tengo scivolo e scivolo. Oh, scivolo è bravo. Allora... Oh cacchio. Aiuto! Dove sta questa scinghiana? Sta qua dietro. Questa scinghiana. La cosa è assurda, ragazzo. Mentre trovi bot, trovi bro, ma... Eh, ma non si sa, non si sa, ma è una capra. Sì, uno sopra, uno a fianco. No, è già che è un abbo. Sì, un abbo. Grazie per il follower. Guarda che è morto per primo. Che c'entra? Sì, sempre che c'entra. C'entra, c'entra invece. C'entra. E tu che sei scarsa. Ma che cosa? Stai cccisco. Andiamo a Borgo? Andiamo a Borgo? So che non si trova un'arma. Andiamo a Borgo. 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 도 tra wattsmo più di across, otras. Così, molto semplicemente negativo. Non c'erano proprio niente. Cosa c'è? Do se non ci sei riuscito dopo chattami in viagliate ti da una mano, Brivode. è una pistola sempre io prenditi il punto ti ho regalato qualcosa e basta con questi ritaglietti ma che è questo che deve parlare di peso Tony ma tutti quanti possono giocare con me non c'entra niente l'abbonamento io l'abbonamento lo chiedo quando ad esempio qualcuno vuole farlo o no ma non sei obbligato tu giochi comunque con me tutti quanti giocano con me senza abbonamento mica chiedo l'abbonamento io io non sono quello io non sono uno streamer che dice se non ti abboni o non ti faccio giocare anzi io se mi abbono ti ringrazio anche con una felicità al sud no te lo lasciavate uscire no ve lo faccio e te li sto lasciando vediamo un attimo dobbiamo prima farci tutte le persone che ci stanno intanto io intanto ma sono tutti bravi ma che parla è arrivato su livello 41 vabbè guarda questo come mi ha preso dai sto scignone che faccio sei e ti muo' ma ne ho più al domani morto morto uno è morto oh ti mi piace che non lo è giro sono morto sono morto sono morto sono morto è morto ci è è morto un altro che non ti spazio ma vuole un altro ci vuole un altro eh ma ma lo ha scettato mi ha vuole un altro dai e dici nel 89 vediamo sto un poco questo non c'è qua allora sta nel castello aspetta vieni decidimi aspetta finiamo prima questa gente finiamo un attimo qua eccolo vieni allora vieni al mio tristaro vieni vicino a me allora colpisci la testa più volte che puoi ok 3 2 1 via allora si gioco rimi come non gioco però vieni ho buttato la palla e mi metto la palla e la scheda e i guanti vieni tutto a me non mi piace ragazzi aspettate un attimo ho trovato lo spazio no 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 io a me non meriterei io solo perché ho ucciso tu ma e tu ti prendi sempre i poteri che tal io trovo una cosa e io mi devo essicurare sai ah aspettalo ma la scheda non ce l'hai si e usalo ok faccio la mia piatta Nina mi deve curare un po' con la scheda bene grazie oh è bravo quanto è lei oh se trova lo spazio è mio oddio sotto spazio oh cecchino te tu fai di più cecchino leggendario io ti giuro lo prenderei cosa cecchino lo scar scusa no vai 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 no no non so usare cosa lo scar non so usare lo scar che sono le basi ah scusa perfetto meriti tu ciroli puoi portare i tuoi meriti si dammi altro scar e che lascio dai 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 no lascio un meriti capito i poteri non sono l'ultimo dai sali ho spazzano e mi abbasco sali ma qua c'è problema tecnico ragazzi eh se ti alzio dai 2 kill io invece ho fatto 0 kill non sparare a casa ma perché devi sparare a casa andiamo fuori da dovevo visitare ma io non vede nessuno fuori no se perdiamo questa partita se non lo vedeva più scarsi però comunque lo mettiamo vero? vero? guida un'auto ma questo già hai fatto come scioglie guida un'auto è un camera attraverso una fennitura attraverso una io sto a 2 su 3 io sto a 3 su 10 no ma perché il blu è bello perché io andrò a foresta senza che non la storca la storca dopo nino ma hai chat solo follow no no ho chat libera non ti preoccupare ragazzi scrivetemi i prossimi mi viene in via io tra poco dopo questa partita nino guarda una bella squad ci sta così proviamo a vincere ci sta una bella squad ragazzi ok ma perché stiamo girando il cerca team complimenti per il nickname brava allora c'è stata gente perché qui ci stavano i palloni di fuori invece poi ci stavano i palloni di fuori ma sta gente scendiamo no 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 e nino andiamo alla start andiamo alla start si ma non possiamo fare il giretto della mac no ma ce ne andiamo a burgo però dammi tempo no nino però così siamo adesso e non fai niente no nino no nino non possiamo far bere vita per queste missioni e ci sparano perché non me lo do ci sparano stanno andando alla start ma pegato ci lo batto e ho piattato sparami ma ce ne andiamo in ordine di cui ho io l'ho completata via ti da 25.000 points allora ho visto ho visto c'è gato non so ah ma perché questa non tiene il nome io non tiene il nome ma quando sta facendo si sei un coglione vabbè dai fattemi sicuro non si scassi no si vedi non si scassi di te eh scassi però mi hanno tolto i danni eh lascia i sicilini sono macchiella sono macchiella guarda no sono andando che senti attenzione livello 98 ok questa è brava c'è che sta a chissarlo che c'entra non è che sta a chissarlo bot eh perché per forza sei chissato è forte bevi su sì sì scusa l'hai avuto quanti volte ti tieni ok tu sei a posto ho messo il bambino oh ok ok non per l'elicottero si poteva tenere no 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 eh allora ragazzi bevi ancora te ne ho dati due eh guarda guarda dov'è la save se lo spavoliamo per forza della save wow che tragedia ragazzi io vi dico una cosa oggi pomeriggio vi aspetto in live sempre qui sul mio canale dove giocheremo a fifa e a pes per fare per registrare episodi della catena allenatora e niente vi aspetto mi raccomando siate in tanti belli miei ma che cicchina ragazzi stanno andando darmi il tempo eh i trovi 31 30 30 30 morto cino ma che fai cino ma se ti metti davanti le ponte morto ultimo sono morto sono morto eh da me pure è morto ultimo fatti indica sono laser ci vedete che è bianca questo questo non ce lo facciamo fammelo finire a beve per please anni non lo sparà grande finito bamb una quanta roba come perché troppa tutti stano mino mino posso di una cosa c'era mai per fammi dai compilati grazie prego ho lasciato la vita che non posso usare pure io questo questo che è bellissimo che è questa costa che o meglio faccio lì la casa te l'ho lasciata per te lo puoi prendere questo medikit qua e che hai tu come cuore prendi il medikit subito posso dire che cosa posso dire non so decidi tu ma devi prendere il medikit tu non puoi lasciare con i forti no non vedi c'ho c'ho gli scendini eh mamma io che posso lasciare perché c'ho dei forti vabbè lei non lasciare niente non ti preoccupare giochiamo senza cura solo con gli scendini che cosa finiti lasciamo tutto aspettando se perdiamo un fan no fai invece comunque facciamo ah vamo 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 comunque teniamo i scendini gente qui eh dai vai 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 è tipo bianca come il latte c'è presente il latte che ci mangiavo guarda 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 ce l'hai presente il latte che noi ci mangiavo la mattina sì ma c'è presente il latte eh nero ma prendiamo sto posto altro medikit ma che che si dice su ma che ma che ma che ma gente chi è che ma no ma c'è una macchina cacchio vabbè devo procurarmi una macchina no nino ma sta questo eh appunto nino toni toni è evitato eh dopo dopo poi vittali prendiamo l'edroco vola sull'edroco allora ancora uno intanto sta pure in centro questi eledroco che vogliono voi dom'è ecco dom'è eccolo non so sto me la pre ascar uè Oh, adesso mi cura a me, adesso mi cura a me. Che succede? E' il mio perore. Chi ha sparato la botta? Io te lo giuro, la palla di Doom si doveva ricaricare, se no. Se te la farai pure, lo vedi che non si è caricata. Prendi qua. Usi il deltaplano, prendiamo questo XP che mi serve. Io mi serve. A me si fa. A me no. Siamo otto! La gente è pure qui sotto. No, Nino, 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 Nino. Non te la guarda su? Che mi devi andare sempre da su? Oh, cazzi tu i soldi, eh, colpa su qua. Dove sta l'XP? Vedo io! Ma l'ho preso. Eh, non si fa' per fare forza. Tììììì. C'era presente i fatti tuoi. Sei fermo! si ma vedi che i corsi che prendo si ma comunque lo dovevo prendere io perchè avevo la missione da fare si ma tanto è vicino quindi? ma che stiamo usando un robot di polso? è tutto! dio Gerù? che? tu vuoi se dici una cosa? dico ho fatto la sfida ma che sfida sto facendo io a casa? ma pure io sto facendo sfida a casa ragazzi come livellare in più fretta possibile il passo? facile fare sfida a missioni a cazzo di cazzo stanno qui eh? stagendo si pushiamo mi lancia pozza pushiamo vedi ma si ma questa è persa lo sapevo e allora cazzo stu morendo stu morendo stu 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 si troppo push no nino 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 però questo te lo peggio tu per me ah sono morti sono morti sono morti colpa così lo scelte lo scelte lo scelte lo scelte lo scelte lo scelte è persa anche questa è bella ci lo sta si si è allorino è allorino ragazzi ragazzi sbloccate il sbloccate il salano qui pregiamo e vediamo un attimo una cosa ragazzi perché adesso se non arriva a livello come arrivano contatto così ragazzi dai entrate motivi all'amicizia mamma mia dai ok ok a me mi ha invitato tipo a toni c'è eh invitalo invitalo a nino toni eccolo qua invita aspetta vai vai inviata bro ti ho inviato no di puta accetta dammi qua poi ce l'ho con amico aspetta guardi un attimo ma non vedi che non sono qui che non sta sul gioco vedi che la specie sta aspetta toni ma non ci sei sul gioco eh mio fratello te l'ha accettata ma non c'è aspetta cino sai che è che si può dare con la mano questo tono che cazzo che cazzo che cazzo pure SPG suoi vedi che fai aspetta ma sei tu il leader no toni allora io muoio entro nella tua lobby la mando al tuo fratello ok l'ha mandato ehm andiamo a mio fratello l'amicizia allora toni rendimi rendi leader a mio fratello se è possibile dai brad invita dai invia a mio fratello dai ragazzi mi dovete dare una mano a fare eliminazione a mori molesti fai un ballo Robert Sack che vuol dire Ciro? devi fare il ball il balletto quale balletto è tipo un un balletto di Tony Stark o di un robot e qual è? e che cazzo ne so? come le quali? vedi che devi completare non so ma a me non mi ha invitato vladimir ci sei famigliato fratello nella tua lobby e mi invita e mi invitate ecco qua eccomi qua eccoci qua siamo tutti qua prendi a toni di derci allora l'era pronto Ciro che deve entrare vladimir ci sei? perché poi lui si mandato la richiesta a tuo fratello senti ah quindi ti chiami sis2 vieni eccolo qua perché poi si andrà a me vabbè tu sei l'unico ciro che la può difiere ecco qua ti ho invitato ragazzi dai che si fa una bella vittoria dai non mi sento andiamo sul discord no bro non ti preoccupare giochiamo così dai let's go si parte sì però il dito dovrebbe essere il dito dovrebbe essere ragazzi qui scegliamo il mio fratello dove andare da una bella vittoria ci deve essere ragazzi ragazzi adesso mi so che sta il vento provo il vento che ti fa a volare ah no lo vuoi provare in partita voglio dire in partita vabbè allora lo puoi provare in partita ma non lo puoi provare non succede lì non esplode 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 ragazzi ragazzi andiamo a mori molesti c'è cazzo sta qua vai provalo subito provalo non è lo devo provare in partita ragazzi andiamo a mori molesti guarda guarda ti faccio guarda ti faccio ti faccio ti faccio a non volare e puoi provare in testa eh bro infatti a mori non ci sono poteri se ci fai caso ma io non ti ho schiattato dai ragazzi let's go dai ragazzi io vi voglio bene a tutti quanti andiamo a vincere stessa partita cento sta un livello 16 non ci stanno livelli più alti di me quindi io sono il più alto della lobby che è un'ora che è un'ora ma se sono a livello 98 ma ragazzi no dal pass 5 mi non mi si però la tastiera si è scassa dai ragazzi vediamo come è deltaplano ah io me che c'è il pass più bello della mia vita ragazzi scende jed si tre persone ragazzi se sono dei bot queste tre persone lasciatele a me perché devo fare le kill devo fare tre kill ecco si ok a terra 1 a terra 2 a terra 3 a terra 4 si tovo un po' a terra 6 si si a terra 7 a terra 1000 mi sa che Tony muore comunque lo toglie una cazza arrivo io e si mi sta giocando Tony Tony ci penso io stiamo già a 2 con le kill Tony secondo me si è ammazzato ok una manca l'ultima praticamente dove va dov'è lascia va ragazzi adesso non ho tre persone eh ma tu anima la tua la lasciare sonnaci stop gente grande dio la prego è bravo eh atterrato yes yes completata re bombs il re a terra avete una frattura sì dove lo sai dove mina sta qua la frattura venite venite Tony aspetta aspetta boom scusa Tony dove staci ci sono ah ci stanno sparando ma ma quello mentre dice dove sarà che cazzo fai rod tu livello 100 ragazzi siamo quasi livello 100 sono la l'oranza strud ma è uno scudo non ho mazzo eh sì e che vuoi tutto non ti da niente ciao io vorrei cercare una frattura qua non c'è ok sì ecco la frattura scusi voglio la cassa no nino nino e come dice questo che c'è chi è epico e chi è è rini vladimir dai dici chi è mio fratello gentilmente sanno si lamenta e dopo si mette nella testa please dopo diventa antipatico capito con lui si vabbè però che palle e va fanculo no quindi socio ciò di tomate dai ragazzi proviamo a arrivare al livello 99 che ci danno 101 pack qui 70 170 ci scioccavo il livello e arriviamo a livello 100 tutto negociate nelle macro e poi ovviamente ragazzi dovremmo anche completare le tre missioni di vabbè ci ma guarda che non è difficile ragazzi tutta la sac tutto la sac guarda ma quella è forte sono assaggando e come parlavo oh con le bombe con le bombe sono 4 allora si sono in scuola ma possono essere ciro c'è pure ragazzi qualcuno medikit ragazzi tutta la star che si va tutta la star si va per vedere ciro nino si raga tutta la star che dai si ce l'abbiamo i materiali si ciro come sei messo tu a marzo 14, 65, 17 capito? si è messo bene male si è messo benissimo ragazzi se trovate una macchina che si può guidare ditelo perché se non mi sbaglio tipo qua ci dovrebbe stare una frattura e la frattura mi porta a completare una missione e con quella missione 6.025.000 arriva a livello probabilmente dovrei arrivare a livello 99 probabilmente oh qualcuno che me la va a prendere ragazzi eccola la frattura mi serve ciruzzo tu che hai pochi materiali no mi puoi fare una scala si è vero se sto non si può guidare lascia Tony Tony lascia Tony lascia Tony esci ok salite tutti quanti Rimi entra Vladimir entra entra nella macchina mentre mio fratello fa le scale mio fratello fa le scale poi lui sale e poi prendiamo la frattura dai sali lad ragazzi vienici aspetta la potete prendere ah ci lo sto pure qua vieni direttamente vieni qua vieni qua no no Tony 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 no dove cazzo non la prendete ci la sali qua non la prendere salite tutti salite tutti Tony sali 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 iu ah non è la moglie al cuore olè olè ohè è molto bella uscire un'altra volta però no che non siamo insieme vabbè scendiamo insieme iu vai la comandiamo noi ragazzi livello 99 sali vai che la macchina è buona vai spengi nino spengi perché stai litigando a lei e lo volevano andare a prendere ma c'è già cioè non le vale proprio la pena andiamo a corso che non si sta a mettere sto cappuccio di me in ogni capurante eh ma esplode la macchina no solo che si ferma vabbè chissà andiamo a prendere ragazzi fermatevi peschiamo un poco perché in endgame possono oh ma che è là sopra sopra guarda quello dove va guarda dove mi sa che hai visto un po' male il faro punti pesca dai droppa me lo so pesce leggendario dai se mi droppa il pesce leggendario scioppa oh pesce parata no lasci flop io non ho pescato un cazzo uno il pesce parata che fa la ragazza ha corso la macchina lini come ha fatto a costruire non lo so infatti sto volando mamma quanto finisce l'effetto di sto pesce di merda ma è un pesce che fa lo pedino è puccioso come porco ragazzi ci siete perché ho paura di caccavolo dai poi dopo le devo fare tutto io capito io so che faccio tutto io però che depressione che porco ragazzi banana cocco banana io posso portare il banana anguria pure questa di tutto e di più stanno spaccando ragazzi siamo sole a corso no 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 è sparato colpi pump vuole vuole colpi pump colpi pump prego quanti c'hai dati perché ce ne avevo 12 uno ce l'ho però di non solo 12 pensa che sto gioando ancora con un po' parigi e anch'io troppo amico non fate rumore non mi fate sentire ragazzi adesso vediamo se riusciamo col tempo a completarci anche tutto iron man non mi vedi che sto già mio ti hai qualcosa da fare yes questo 15 inside oddio è un po' divertente l'amore ma è morto qualcuno qui prendiamo l'altra pulchini te lo puoi non so allora dammi lo spasso oh dammi lo spasso usciamo dammi lo spasso che ti bevi altro spasso please ah è carica ok ok no non mi piace il carico ragazzi siamo 14 aspettatevi no 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 allora toni e ciro vanno in questa macchina e io e e blad mi rendiamo in questa dai mi vede che quello c'è più un ricarburante ah mi piace la mia oh però lo voglio guidare io in sta macchina vuoi dire oddio che scassi i droni sono scassi aiutatemi la mano dai sono più scassi di te 110 ragazzi non basiamoci troppo sui droni eh però non lo puoi dare il cecchino questa gente lì allora la cosa che ho fatto in questo pc 60 ragazzi gente ragazzi sta gente qui o ogni no se vuole portatua che perdiamo guarda guarda io vado con nino bravissimo bravo quanto sei forte come finisce un rimasto dai ragazzi le ragazze deve affidare guarda c'è fatto accorgere guarda come vabbè ragazzi vedi che porta tua è che abbiamo perso sì che ti butti sempre da solo senza dirne neanche due minuti prima sparano perché non hai mai materiali cioè non hai mai materiali mai materiali ti ho detto e gira non è sempre 30 quanti forti dai ragazzi non sono fortissimi eh però si che hanno ammazzato a te non sono forti forti dai ragazzi credo in voi io vai vlad mamma mia vlad oh quanto è forte questo è fortissimo bravo vlad mamma mia vlad ma chi sei vlad attenzione dietro provare a salti vlad 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 vai push push scendi bravo con calma con calma bravissimo piano piano mamma mia vlad vlad mamma mia che mostro bravissimo dai piccoli dai finite so toni no si vede guarda come gioco ho pensato avesse preso si diceva no ha fatto una bravissimo l'avanzato uno contro uno eh vlad uno contro uno ui poter piano mamma prendita bene il ragazzo uè bravo vlad arrivo mamma si abbiamo vinto vamo grande vlad ragazzi tornate in lobby ahhh ragazzi tornate in lobby sono nelle lobby perchè questo è l'urto gg vittoria ragazzi livello quasi 100 basta fare così si si ragazzi e mo si vanno a completare allora come si fa a capire dove sono le missioni ecco qua allora la prima missione sfiora gli 88 km come un whiplash come Tony Stark che vuol dire? sarebbe la macchina sua sfiora gli 88 km ok dai ragazzi andiamo e dobbiamo andare alla Stark Industries perchè devo superare gli 88 km con la macchina di Tony e niente dai ci proviamo e poi ragazzi finiamo le altre due missioni così in live abbiamo del contenito scrive che non accetti abbiamo abbiamo del contenito bella win l'importante che l'abbiamo fatta raga così il video uscirà su youtube forte doni gioca bene grande toni seri da pc sfondare tutto va bene un parente tanto la vittoria reale l'abbiamo fatta questo è l'importante toni sa che industria raga devo prendere la macchina e poi mamma mia grande grande anche io da pc sono ma un gran ma si è rotto e un paio di mesi fa mi sono passata l'interno a va bene da raga si prova si prova tutto per tutto per finire questo iron man questo iron min ragazzi io prima che sto con la live lo voglio finire io ve lo dico non mi interessa proprio io iron man lo devo finire costi quel che costi mi costi anche la testa non mi interessa giustamente la testa non pensate male ragazzi ma tu guarda un po' con la sorta ragazzi avete visto un po' a me mi serviva la macchina superi Audio Effect Ho detto su, supera, 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 supera supera, supera, supera 80, 81, 82 81, supera, supera supera, supera, supera Ah, è morto, Tony 75 Attraverso 33 Eh, Tony è morto Eh, Girù Ma, ma è pure lui Oh, Iron Man ha incontrato dai 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 50 io devo far prima sotto a 8 km ragazzi allora pittiamo e andamola a fare un'altra io quello che non ho capito che vuol dire sfiora di 88 km con una wingsplash come Tony Stark c'è l'ho Tony Stark dai Tony metti pronto grazie a tutti dai raga sempre star che si prova a fare gli 88 chilometri con la macchina di dai che tolista che ha detto voglio cambiare stile voglio iron man io ho detto adesso te lo farò avere ragazzi mi aspetto l'oggi pomeriggio su pass e fifa no oggi pomeriggio no stasera sta papà su among guys ragazzi oggi pomeriggio sto io su pass e fifa perché ho delle cose importanti da fare e stasera questa papà suona ok ok ragazzi dovrà finire iron man perché ci deve stare il contenuto che se non c'è il contenuto io non posso mettere ovviamente io ci provo a farlo non è promesso che vi prometto che entro oggi c'è la faccia dai raga io provo a farlo fare il giro velocemente e così evitiamo di rompere la macchina e quindi proveremo a fare questo 88 chilometri orari dai dai ragazzi proviamoci non vi prometto che ci riesco ma se ci riescono tanta roba è minchia guarda sono due stagliarsi qua proprio 87 quello era 88 devo fare 88 fatto leggo ragazzi let's go let's go ce l'ho fatta ho fatto 88 preciso ma non mi voglio ma chi sono mandra ragazzi sono vivo è fatto anche la prima missione di toni la seconda qual è e la seconda è rubare l'armatura la seconda devi trovare il posto anche gente tipo sta un passaggio questo è più scarso di che è morto sta un passaggio sono cinque armature fa quella colorata argento e tu ti prendi quello ma non è tornato ma non è tornato benissimo ma bellissimo ma signora inglese oh 51 51 non ha più la shield non ha più shield ma voi come su se potete il cazzo di cane vola come stai? ma tutto bene? ma te ne potete ah ma uno te ne quanti solo no ma io penso pure che uno tirava il raggio sono qua? sono là? sta uno qua? sta uno di là? oh ma va fuori sono tu davvero rimmi oh rimmi hai fatto fare una vittoria reale? muori sempre rimmi sei forse dai però ho visto quel wolveri che teneva pure il raggio no il raggio no e ma ho visto che è butta un raggio non lo so a me non lo so a me non lo so a me è un altro bianco non è questo bianco voglio è bianco è questo il latte va bene non ti ne è più il mazzo dove vai? intanto ti dica lo stesso usa i poteri di aero non ti crede ma ti dica che se te le vai è veloce però i guanti tengo un'altra persona odi 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 sta qua stonzo non la puoi fare più ma nino prendi il raggio mi trovi ragazzi preso la carta andiamo ad aprire il cavo dai vi lascio questo non mi ringraziate ah vedi il raggio il raggio il raggio ti prendi altri scivoli ragazzi abbiamo comandato Tony Stark l'abbiamo massacrato bravi raga venite ad aprire il cavo ragazzi ragazzi venite ad aprire il cavo vi ho lasciato un po' nera perché mi tengo io il raggio perché mi piace quindi me lo tengo e me lo merito perché? perché non ci sono io a quello con il raggio ma che c'entra se non ci si è da raga venite venite ad aprire il cavo li vanno 102 ragazzi cosa? dai avrai, avrai, avrai baleone che non era ancora acceso subito fingiare la baleone oddio perché si è no eh il raggio come vi permettete da mi prendere il raggio è studi sì chiudete un po' la porta senti si chi viene il nonno ok Ragazzi scendiamo dai Scendiamo Scendiamo dal bacio Ma raga comunque la Star King Andiamo un po' a porgo Raga lo sai che la Star King Ha preso dopo quasi tutta la barba Ma quello lo sai che la Star King Esiste? Sei in America Sei in America Allora dove è la città? A nord dell'America A nord di New York No Ma sono certi casilli Sono certi combattimenti A me mi piace Come volete voi Si si bello Però io non ci voglio Si è bello Ragazzi prendiamo l'air troppo Si è bello la come vuoi tu Si si però io non ci vado Perché stanno troppe guerri Mi sembra questa è un'altra bella partita Eh? Questa è un'altra bella partita Eh perché infatti vi siete curati tutti E avevate buonissima vita Ciao SPJ Io ragazzi Prima del luna e mezza Prima del luna e mezza Competerò il 99% Iron Man Pure se devo quittare un'altra partita Non mi interessa Ma io devo completare Iron Man Tanto la vittoria reale L'abbiamo fatta Ma perché Indica lo indica Ragazzi Spasso leggendario Per chi vuole Sparano a Borgo Eh raga Loro guarda Stanno andando le calice Ce la faccio da solo Se perdi sei scarso Ho detto Già vai Se ti uscite Ciao Ale È bella ragazzi Sette esperti Grazie Andiamo a vedere un po' Se riesco a girare Non era scarso Ha costruito Un uva Due Tre Lavo Nabo Ma che c'entra Che ha costruito Tre muri Eh no Non dire che sono scarso Eh non dire che Le ho ucciso Due secondi Perché Non ti sparava Niente No ma perché Lo laseravi No ma vai via O già O sennò ho già Costruito A mille muri Mi dici Stai quasi Vieni al tuo padre Vabbè Dai si fuori Ah Ragazzi Ragazzi Perché la rossa Non andare Nelettare Ragazzi Ma perché Non me li da Borgo Posso fare il coglion Non fa niente Alex Non fa niente Sono entrato Lassupra Vabbè Minus a posto Se c'è solo scar No Manco quello Mi tengo questo È fortissimo Il medico Voglio Scar Scar Sparabende E cosa Ragazzi Che vuole Questo Se prende Oh Questa Davanti Sta scimmiettona Oh Questo È la scala Questo è un botto Questo è il seguito Il ruolo È un botto Allora Scala Ragazzi Ma spara Dietro di voi Ragazzi Ma fatemi quelle splash Oh Tony Fatti le splash Tony Arrivi full Come regali L'arma Di robot Di stacco Così Ma poi Leggendario Cioè Ecco La chiudono qua Così Allora Non ce la regalano Di stacco Eh Lo so Ma seppur Tu ti devi comprare L'S9 Della Samsung E lì Ti puoi scaricare Fortnite Ti immagino Uno viene Da dietro Spacca il muro Spende La cosa Se abbiamo ammazzato Sì Se vuole uccidere Comunque va Ma a me nessuno Non mi abbia ucciso Con un trick Quelli di prima Proprio Farano Ammazzati Ragazzi ma perché Se non ci muoviamo Dalla facevamo prima Ma boh Eh Perché dovete 35 Era shield 900 colpi 300 colpi 38 Morto Ma raggiunto Come l'ho preso 89 E che sono E che sono Sono veramente Ironman BAM Coraggio Che bello Ragazzi io amo Quando ti tieni Il raggio Tanti Ma seria? Perché ti sciolgo I guanti ti rompono Il raggio T'ha sciolta Però quando ti Tanto E tu non puoi fare niente Sei morto E qua invece Quando Invece tieni Gli altri Tengono Ragazzi non vi rubate La kill please Questo è un bot Comunque Ah Infatti Infatti Non puoi dire il bot Non ho fatto un buro Non ho fatto niente No non l'ho vista Eh sì ma quanto è forte Il raggio di Ironman Eh ma quando tengono gli altri Potete di Ironman ci sta Ma si metti che tu non l'avete Proprio a vista Ma perché Possono servire Ah già ce ne avevo certe Come ce ne avevo già detto Ce ne avevo già detto Ce ne avevo già detto Due E Nino meno male che ha detto Che dovevo usare tutto il tempo Tu vuol venire No Ma buon giù Ma questo successo Forse è il più bello A me il set Nave 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 Barca come si chiede Barca barca No no Motoscafo Il motoscafo Novanta Ragazzi Come AR Ci vuole il raggio laser O guanti O i guanturi O ragazzi Cioè ragazzi avete Pensavo ci fosse gente Sì si sono abbaricati raga Mi serviva mo il raggio Morco tu Perché Mo lo penetro il muro Dai Perché Perché guarda lì Si sono abbarificati Là dentro Il raggio laser Supera giusto I muri Sì 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 Nino Non ho sciottato Quelli I testi Triple 90 Tutti guanti Guardiù Che tu vuoi che so Qua ci fosse Qua ci fosse Qua 849 Un hacker Perché ci hai fatto 90 Dove Di fare Il coloro Arancia Vabbè Vabbè Vedere A bianco Non posso lasciarmi Io Sì ma vedi che Temi il raggio brutto Se puoi Vai 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 È bloccato Era bloccato Un po' più 90 Un'altra volta Un'altra Terra Ragazzi Armino Questa Qua c'è Allora Ma posso Io vai Scermi Lo potete Aiutare Armino Poi c'è Mata Scermi Deve Comare Stai Per far Una fila Non fa Ragazza Non ci Pensare Non ci Cagare Eccoli Ragazzoli Miei Grandi Siete Ottimi Come Gioratori Tutti Sì Ma Adesso 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 Vlad Vlad Non mi Fa morire Vlad Vlad Qualcuno Che Mi Ressa Qualcuno Che Mi Ressa Tony Tony Annaccia Misere Magari L'agra Stai Andando Un film Cinema Torni Ressa No Torni Ressa Tony Ressa Ressa Tony Ressa Prendi La scheda Tony Ma che stai Facendo Mi sto Facendo Ma mi dite Che abbiamo Buttato Una partita Ma sta Allargando Vladimir Si sta Pulando 5 4 Ce l'ha Fatto E poi Prendi La scheda Tony Ma ormai Questa Aiutaci Tony Ti aiutavo Io Ti aiutavo Che stai Ti aiutavo Guarda Quanto Toglie No Ragazzi Mi capito La partita Tony Che cazzo Stai Facendo No Non me lo Spiego Vabbè Dai Andiamo avanti Ragazzi Ok Tony Vai a Mangiare Però La partita Non si Gritta Se Andavi A Mangiare Lo Dicevi Prima E io Non Mi Mettevo A Faitare Con Quelli Capito Vabbè Ragazzi Io vado a Fammi Le ultime Due Partite In Singolo Per Provare A Finire Ironman Io Spero Solo Che Non Mi Chieda Di Con Se Potere Usa Una Postazione Di Potenziamento Come Tony Stark E Dove Hai Una Postazione Di Potenza La Stark Usa Una Postazione Di Potenza Contenziamento Come Tavista Usa Una Postazione Di Potenza Mento Come Tavista Vado Fare L'anno Andare A Corso Di Consiglio Io C'è Un Attimino Tissa No Tissa No Tissa Tissa No No Tissa Tissa si inizia a fare la bella mangialo però mi raccomando metto una praticamente a raw e set mi raccomando mi raccomando no bene 10 minuti a 10 ragazzi completiamo sta mia inghia di messione dai 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 morire per non morire 10 ma prego prego ci vuole 10 sì 10 di mattone si si adesso vediamo se non c'è nessun fight qui chiamo e andare a fare l'ultima missione tra l'ultima quando poi finiremo la missione noi finiremo anche la partita giustamente perché sai non si sa mai riesce a vincere una cosa si è morto tantissimo ci sarà ci sarà giusto 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 ci sarà giusto Usa un emoto come Tony Stark Nel laboratorio Armaciuta Dai come sia difficile Io no la devi prendere Provare bellissima Bellissima Devi fare un balletto a casa No devo fare questa emoto qua Questa qua Questa qua che devo sbloccare Quanti punti ho a poco Perché non le faccio 500 Ragazzi dopo questa partita Terminerà la live Abbiamo fatto la vittoria reale E poi io vi saluto Ci becchiamo oggi pomeriggio Con FIFA e PES Oggi pomeriggio Perché non mangi? Perché non mangi? Mangi E inizia a mettere in bocca Da Mi vuoi tutti i mangi? I cazzettini mi veduti Non basta che mangi Tu sei blabato Allora ragazzi Speriamo che la Stark È dalla mia parte E quando mai la Stark Non è la mia parte Questa Trova un'altra partita Che non riescono a mettere la password Che non riescono a mettere la password La prof ha detto la password Mettete provvisoria Provvisoria sarebbe Non è quella che la password Poi apprende la password Poi apprende la limita E dite No Mettete la password ho mangiato il primo pezzo dai ragazzi speriamo solo che poi nella parte della la cosa è dalla mia parte ma andiamo là è la parte nostra ma tu quanti sei messo io dai mi devi trastare la monos e infatti infatti rimi dai vlad andiamo a completare iron man completere devo usare le morte praticamente ha capito dai forse cosa forse cerchiamo di entrare per la finestra ragazzi ma vi ricordate il laboratorio di toni dov'è io ci andiamo da sotto forse ci vediamo iron man completed mamma mia ragazzi che emozione aver completato iron man non ti preoccupare toni ragazzi abbiamo completato la skin più bella di tutta fortnite ovvero il nostro re iron man vediamo abbiamo sbloccato praticamente questa è la se tu fai questo ti trasformi in iron man ragazzi godetevi la vostra giornata ci salutiamo ci becchiamo oggi pomeriggio bella